Sono Sonia Marini, la presidente dell'associazione Gianluca Pennetti Pennella, che è l'associazione socio-ricreativa dei Vigili del Fuoco, che in questa veste rappresenta i Vigili del Fuoco che si arrampicheranno e scenderanno con la Befana. Noi siamo l'ente, il braccio operativo della Befana, quello che organizza l'evento, quello che predispone il tutto, assicura il personale che arriva dal tetto. Un nome di cui, ed è bello sapere questo, di cui i Vigili del Fuoco non si sono mai dimenticati? Gianluca Pennetti Pennella ovviamente, che sarebbe questo Vigili del Fuoco volontario, deceduto 28 anni fa, era il 28 di novembre del 1991, è morto in servizio e a seguito di questa tragedia il personale dell'epoca che faceva servizio ha fondato questa associazione a memoria proprio di questo ragazzo e noi oggi portiamo avanti queste iniziative di solidarietà proprio per ricordare questo ragazzo, aiutando le persone che hanno bisogno, ma non solo nell'ambito dell'associazione, quindi nell'ambito dei Vigili del Fuoco, ma anche allargando la nostra sfera d'azione ad altre istituzioni come per esempio l'adozione di bambini a distanza tramite anche l'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco e altri casi che ci vengono presentati di volta in volta. Grazie, mocca al lupo!